Poracci, benvenuti o benvenuti sul Porocast, l'unico podcast di YouTube Italia e internet.poro dove si parla di videogiochi. Allora, questo qua è un format nuovissimo per il canale, ma in realtà si tratta di una cosa banalissima. Sostanzialmente questo qua diventerà uno spazio, spero settimanale, dove parleremo come al solito di videogiochi, ma in un modo molto più informale, senza uno script, senza eccessivo editing, insomma un po' abbraccio, perché ci tengo a creare anche un canale di comunicazione più diretto con voi e poi insomma non vedo l'ora di essere un po' più rilassato in camera. Quindi, più o meno come si strutturerà questo Porocast? Beh, in realtà il format è ancora in divenire e mi aspetto un vostro feedback nei commenti, soprattutto con suggerimenti sulle cose che potrei introdurre. Vi dico da subito che ho già in mente un po' di rubriche interne a questo podcast, che arriveranno col tempo, piano piano, mi baserò anche sulla vostra ricezione e sui vostri consigli, ma quello che intanto vi dico è che uno degli obiettivi principali è quello di far arrivare degli ospiti qua sul canale per far sì che questa qua non si trasformi nell'ennesimo monologo Poraccio, ma diventi anche un contenitore per ospitare diversi punti di vista, sia su magari argomenti di attualità, ma poi anche su quelli che possono essere delle macro-categorie che mi interessano particolarmente, come ad esempio il collezionismo e via dicendo. Comunque, di base ho intenzione di strutturare così queste chiacchierate. Approfondiremo le notizie videoludiche della settimana, magari aggiungerò qualcosa su delle notizie che magari ho trattato in modo un po' troppo superficiale, oppure magari riprenderò delle news che non sono riuscito a trattare per questioni di tempo, anche perché ultimamente i TG Poro hanno praticamente una frequenza settimanale, quindi molto spesso non riesco a dire tutto quello che vorrei dire all'interno di questi video. Ma poi vorrei anche parlarvi un po' di me, delle cose che faccio, dei progetti che ho qua sul canale, ma anche poi di quello che sto giocando in questo periodo. Quindi insomma sarà il portale di accesso al Poroverso. Ecco, sì, possiamo considerarlo così questo Porocast. Che dire, prima di iniziare, solo una precisazione, sì, lo so che la qualità video non è un granché, sembra sfocato, ma in realtà non è un problema di obiettivo, ma proprio di telecamera. Ci sono diecimila discorsi dietro, però fatevi bastare questo. Non c'è budget, per ora la qualità rimane questa poraccia, e poi il senso del podcast è che ve lo ascoltate. Quindi se il video non vi piace, chiudete gli occhi, o giratevi dall'altra parte. Bene, detto questo, io devo assolutamente lanciare la sigla, perché c'è un intro di cui vado fierissimo per tre differenti motivi, ma che vi spiegherò subito dopo avervela mostrata. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Un intro che oserei definire ricchissima, perché in pochi secondi condensa un po' a tutte le anime di questo canale, perché abbiamo la qualità poraccia al 100%, tutto fatto in casa. Abbiamo poi Mario che indica quindi la presenza del meme, e poi c'è la musica iconica dell'era Wii, che per un Nintendaro nostalgico come me, insomma, è quasi un passaggio obbligato. Detto questo, direi di passare un attimo ad approfondire quelle che sono state le notizie della settimana, partendo proprio dalla fine, in realtà, perché vorrei discutere un attimo del lancio di Steam Deck OLED, che si è trattata di una cosa un po' particolare. Ieri, per voi l'altro ieri, quando ho scritto il testo dell'ultimo TG Poro e ho registrato il video, sostanzialmente la deck è stata presentata proprio nell'istante in cui stavo per finalizzare tutto quanto, poco prima delle registrazioni, quindi ho dovuto eliminare una delle notizie del giorno e mettere questa piccola bomba, però il fatto è che mi sono reso conto poi di averla trattata in modo molto superficiale e ci sono due o tre considerazioni da fare al riguardo, quindi passerei a commentare un attimo la pagina di Steam, ecco qua. Allora, sostanzialmente, a livelli di prezzo, insomma, insomma, perché capisco che Valve abbia voluto, in modo anche molto intelligente, imitare un po' quello che è stato l'iter di Nintendo con Switch, proponendo, più che un refresh mid-gen, una sorta di versione premium che lascia intatte più o meno le caratteristiche hardware necessarie per garantire lo stesso tipo di performance tra i vari modelli, ma offre comunque un'esperienza di gioco migliorata, neanche poco, poi da quanto sembra, dalle recensioni, ma non si tratta quindi né di una deck pro né di una deck 2, però i prezzi continuano a essere molto importanti, più o meno si allineano a quello che era il listino precedente, anche se ci sta, insomma, anche un piccolo rincaro. 679 euro, ma anche 569, iniziano ad essere, per questo hardware, va bene lo schermo OLED? A mio avviso un po' troppo. Alla fine Switch OLED è riuscito a rimanere in quel range di prezzo ancora accettabile, intorno ai 350 euro, che pure trattandosi di un aggiornamento tutto sommato superfluo che poteva essere evitato da chi già possedeva la console, alla fine si tratta comunque di una spesa relativamente contenuta e come si dice a Roma, uno magari se la collava pure. In questo caso 569 euro, non lo so, 679 diventano tantissimi, anche in un momento storico dove c'è parecchia concorrenza e di mese in mese escono sempre nuovi hardware, siano console PCizzate o PC consolizzati. Insomma, non è che la DEC ormai è l'unica alternativa, quindi il fatto che Valve voglia continuare altri due anni con questo hardware va benissimo. Il prezzo però inizia a non essere poi così tanto competitivo quando poi il vero plus che ti offre questa console è l'ecosistema di Steam, ma in realtà poi a livello di caratteristiche hardware tolto lo schermo, in realtà in giro c'è molto di meglio. Secondo me di tutto questo nuovo listino prezzi a questo punto la cosa più interessante sono gli sconti sui vecchi modelli perché pagare 369 euro la DEC entry level, quella che era il modello iniziale di prima e che adesso verrà tolta dalla produzione, ecco, questo inizia a essere veramente interessante, almeno per me o per quello che secondo me ci potrei fare io per quello che ci faccio io con la DEC adesso. Ma anche i 469 euro per la LCD da 512 sono buoni, ma neanche troppo a questo punto la via di mezzo che adesso è stata degradata rimane anch'essa un'ottima alternativa. Quello che dico insomma è che mi sembra un pochino troppo poco come miglioramento, almeno sulla carta, perché la cosa impressionante è che tutti quanti gli addetti alla stampa che hanno avuto la possibilità di provare in anteprima l'hardware ne parlano come un po' della console, anzi del PC portatile definitivo. Ci sono state recensioni molto entusiastiche da parte di Digital Foundry che è comunque una testata che di sicuro non fa sconti e un po' tutti quanti parlano insomma di un'esperienza nettamente migliorata soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria e in generale è proprio una versione ottimizzata sia per quanto riguarda il consumo energetico che appunto il consumo della batteria e poi questo schermo OLED che è anche leggermente più grande, 7,4 pollici contro i set iniziali, dicono renda parecchio bene ma questo lo do per scontato anche perché passare da Switch a Switch OLED è sostanzialmente fare proprio un cambio radicale, passare da un mondo all'altro. Quindi ci sta che l'esperienza sia effettivamente migliore e consigliabile magari a chi vuole entrare nell'ecosistema di Valve però come acquisto principale anzi come secondo acquisto se già si ha una deck non lo so io sinceramente passo molto senza neanche troppi ripensamenti ecco per una volta non sono minimamente indeciso la cosa però altra cosa molto interessante è che a livello comunicativo hanno fatto una mossa fantastica perché mentre con Nintendo questa è un po' diciamo hanno seguito passo passo la lezione di Nintendo però a differenza di Nintendo sarà anche che hanno molti meno occhi puntati addosso Valve è riuscita a fare uno shadow drop ma di quelli proprio fatti da dieci e lode non so se vi rendete conto ma questo hardware è spuntato fuori dal nulla non c'erano speculazioni di nessun tipo non c'era nessun rumor soprattutto sono state inviate a un botto di testate tantissimi hardware di prova delle copie per le recensioni delle unità per le recensioni e nessuno sapeva nulla non ci sono stati rumor leak spifferate varie non lo so fa impressione vedere che si riescano ancora a creare delle sorprese del genere in un periodo dove non lo so ormai è tutto sempre super controllato ci sono leak ovunque e in generale l'utenza non si fa sfuggire nulla molto spesso chissà sono le stesse case a mettere in giro indiscrezioni per testare anche un po' a livello di hype che c'è intorno ai prodotti però in questo caso non lo so sono rimasto piacevolmente sorpreso tanto che quando io ho pubblicato il video non mi ero neanche reso conto che c'erano già decine e decine di recensioni su youtube infatti ci sono rimasto abbastanza di stucco perché perché non pensavo comunque gg per valve steam deck ottima come al solito però non lo so sono curioso di sapere anche la vostra a me sembra molto costosa rispetto all'upgrade che offre però ripeto ne parlo leggendo dei dati tutti quelli l'hanno provata dicono sia un hardware fantastico uno dei migliori device portati di sempre quindi ci fidiamo cambiando leggermente discorso parliamo un attimo di dati di vendita perché questo qua in realtà era il secondo argomento che avrei voluto trattare nell'ultimo digiporo ma appunto per colpa della steam deck non ho potuto inserire all'interno del video e ripensandoci in realtà potrebbe uscirne fuori un video intero dedicato monotematico perché si parla dei dati di vendita di super mario bros wonder che ha raggiunto degli ottimi risultati che ora vedremo un attimo al volo ma in generale si parla di come la strategia di nintendo relativa all'ecosistema switch stia dando i suoi frutti e in realtà stia anche preparando per il salto generazionale quindi secondo me potrebbe uscirne fuori un video intero dedicato molto interessante non vorrei appesantire un po' troppo il discorso però in realtà poi sono video che piacciono questo genere di speculazioni anzi questo genere di analisi piace sempre e a me soprattutto piace farli quindi direi quella è la cosa principale allora la notizia impressionante innanzitutto è che in solo due settimane wonder è riuscito a vendere 4,3 milioni di unità e si tratta della release più grande di sempre per un titolo di super mario cioè wonder ha battuto qualsiasi cosa è venuta precedentemente che insomma già di per sé è un risultato straordinario aiuta tantissimo ovviamente la base installata di switch che ha superato i 130 milioni però comunque se pensiamo che si tratta di un titolo 2d che solitamente suscita sempre meno richiamo rispetto a un platform 3d si tratta di un risultato io non lo avrei mai predetto mi aspettavo avrebbe venduto bene ma non pensavo così tanto sono molto felice perché poi vabbè del gioco ve ne ho parlato all'infinito praticamente sapete perfettamente cosa ne penso e quanto io sia felice per un successo del genere per un prodotto del genere però ecco numeri così uno potrebbe pensare ma escono fuori un po' dal nulla in realtà no perché tutte queste schede che sono state pubblicate da nintendo visto che comunque hanno fatto dei report molto più approfonditi rispetto a quelli di cui abbiamo parlato ieri proprio su quali sono le strategie di vendita diciamo così c'è una cosa molto interessante ovvero fanno notare come l'idea del nintendo account quel concetto del far sì che gli utenti vengano legati a un account riconducibile a nintendo che è una sorta di portale d'accesso a tutti i prodotti della grande n che non sono più confinati al semplice mondo di videogiochi ma abbracciano tanti medium diversi medium media vabbè insomma ci siamo capiti quindi intanto arrivano le notifiche perfetto quindi non è semplicemente il mondo di videogiochi quello che interessa a nintendo a nintendo interessa ancorare la sua utenza e portarla anche al cinema e portarla ai parchi giochi e portarla a giocare sul cellulare insomma la funzione del del nintendo account è quello di creare delle ip che come pokemon ad esempio diventano a tutti gli effetti transmediali non sono più mario non è più un'icona dei videogiochi mario deve diventare un'icona della cultura pop in realtà già lo è ma con il lancio del film è stato dimostrato cioè i dati parlano chiaro che tutto questo ecosistema si rilancia a vicenda e la scheda più interessante secondo me è questa ve la racconto anche al volo per chi sta solo ascoltando il podcast sostanzialmente il film ha fatto in modo il grandissimo successo del film ha fatto in modo che i videogiochi di mario anche quelli vecchi usciti tutti quelli usciti su switch diciamo a partire da new super mario bros su deluxe subissero un boost di vendite impressionante quindi rispetto al 2022 le vendite hanno tutti i giochi di mario hanno registrato un incremento significativo di vendite durante quest'anno quindi il film ha fatto in modo che la gente fosse più interessata ai videogiochi e quindi è andata a comprare i prodotti che già erano sul mercato quindi questa qua si è rivelata una strategia vincente sia con i giochi per switch sia per i giochi su cellulare che anche quelli hanno visto un incremento quasi del 50% spero di leggerlo bene questo 1.4 per diciamo del 40% mentre per quanto riguarda l'ecosistema switch del 30% più o meno quindi si tratta di risultati molto interessanti e questo poi fa pensare anche a quale possa essere il futuro ipotetico di switch 2 appunto sempre legato a questo concetto di nintendo account e quindi si parla anche di retrocompatibilità del far sì che gli utenti rimangano ancorati a questo ecosistema quindi non li puoi tagliare fuori dicendogli tutti gli acquisti che hai fatto in precedenza saranno persi per sempre e quindi insomma le cose iniziano sempre a incastrarsi sempre meglio però questo qua è un argomento che potremmo approfondire in un video dedicato comunque 4 milioni e passa di copie in due settimane sono risultato assurdo sono strafelice però visto che in uno shorts avevo lanciato anche un po' la competizione tra Spider-Man 2 e Wonder che sono usciti lo stesso giorno non dimentichiamoci che Spider-Man 2 ha venduto più di 5 milioni in 11 giorni tanto scusate mi sposto ecco forse qua ha più senso se metto se metto la mia reaction per quelli che mi stanno ascoltando e basta fate finta che non sia successo nulla allora dicevamo due giochi usciti nello stesso periodo due giochi esclusive due esclusive importantissime che vendono più o meno lo stesso ma in realtà in soli 11 giorni Spider-Man 2 ha dato una bella pista a Mario a Super Mario Bros. Wonder e questo è un risultato che anche questo io non mi aspettavo più di tanto però forse se uno poi ci si mette a ragionare il senso lo si potrebbe trovare mi spiego meglio allora partendo comunque dal presupposto che sono tutti e due dei risultati eccellenti ma ci mancherebbe altro perché comunque si tratta di due IP strafamose che appunto si rilanciano anche con il mondo del cinema sono radicate proprio nella cultura pop e quindi non è che ci si aspetta qualcosa di meno Spider-Man 2 ha battuto il record delle prime 24 ore di vendita per quanto riguarda un'esclusiva PlayStation Studios però ha venduto di meno rispetto a God of War Ragnarok che mi sembra in due settimane o in dieci giorni aveva raggiunto i 5,1 milioni di copie vendute questo però non dimentichiamoci che era dovuto anche dal fatto che Ragnarok fosse cross generazionale quindi il bacino di utenza era molto più esteso rispetto a quello unico della PlayStation 5 però insomma se ci pensate Switch ha 130 milioni di unità installate PlayStation 5 è molto molto indietro non so adesso bene a quanto si afferma per quanto stia vendendo bene Sony ha venduto 5 milioni di unità nell'ultimo trimestre una ricerca al volo per vedere quante unità sono state vendute siamo oltre intorno alle 25 20 milioni di unità no nell'anno nell'anno fiscale 2022 Sony ha venduto oltre 19 milioni di unità e per un totale che ha sorpassato i 40 milioni di unità ecco quindi 40 milioni contro 130 milioni vendere più o meno lo stesso ma anzi riuscire addirittura a sorpassare è un bel risultato è un bel win è un bel W come dicono gli americani e chiedendomi ma perché è successa una cosa del genere forse è anche il fatto che quest'anno le esclusive Sony sono state molto poche e c'è stato poco da giocare quindi quando esce un gioco anche chi magari non è super 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 appassionato di open world o super fan di spider-man alla fine dice ma sì sai che c'è accendiamo la playstation 5 oppure semplicemente nel periodo natalizio quando si compra la console e questo è un po' forse è l'effetto tipo line up di lancio quando viene lanciata una console sostanzialmente i titoli che sono presenti nella line up di lancio se la console è di successo venderanno tantissimo perché molto spesso si tratta di pochi titoli e quindi la gente compra tutto quello che è disponibile per esempio il primo Mario Rabbids rispetto al secondo ha giovato tantissimo dell'essere stato lanciato nel periodo di lancio di essere stato pubblicato durante il periodo di lancio durante il primo anno di vita della console non ricordo se fosse proprio un titolo di lancio comunque è stato pubblicato nel 2017 infatti le vendite del primo Mario Rabbids rispetto a al secondo sono state proprio dal giorno alla notte tanto che il secondo è stato considerato da Ubisoft un mezzo flop quindi probabilmente secondo me dietro c'è anche questo c'è l'effetto che giochiamo su PlayStation 5 cosa che gioco compro con la mia nuova fiammeggiante PlayStation 5 o con la PlayStation 5 che ho regalato a mio figlio mia figlia o insomma non lo so la scelta forse è molto più ridotta e quindi ci si canalizza sul prodotto del momento mentre magari quest'anno Nintendo ha avuto parecchie cose su cui dirottare l'attenzione dei giocatori comunque secondo me poi queste cose si vedono anche sul lungo termine ovvero la longevità dei prodotti sugli scaffali scaffali tra molte virgolette perché ormai i titoli sono tutti quanti digitali cioè vendono principalmente in digitale quindi vedremo poi sul lungo andare quanto continuerà questa coda di vendite però complimenti a Sony e a Insomniac per aver tirato fra un titolo che ho platinato sono felicissimo e anche questo mi sarebbe piaciuto farne una una recensione che secondo me è un grandissimo open world e lo dico da persona che si è proprio rotta le scatole in tutto e per tutto degli open world ma quest'anno sono riuscito a farmi proprio risucchiare in due mondi giganteschi come quello di Tears of the Kingdom e quello molto più compatto e molto più lineare ma nel senso di canonico molto più tranquillo molto meno sperimentale di Spider-Man 2 che comunque ho apprezzato tantissimo quindi questo mi dà speranza perché significa che c'è ancora tanta tanta speranza per per gli open world e non è detto che l'unica declinazione possibile sia quella della formula Ubisoft che omogenizza un po' troppo tutto quanto il genere rimanendo comunque in tema PlayStation io ragazzi vi ricordo che il 15 uscirà la la PlayStation Portal sono iniziati ad essere stanno pubblicando i primi unboxing perché Sony ha inviato delle unità di recensione diciamo a vari influencer e testate giornalistiche internazionali in Italia non credo nessuno l'abbia ricevuta che vi devo dire allora io ho un grandissimo problema innanzitutto sono un nostalgico della PSP quindi vedere una console portatile Sony mi fa scaldare il cuore però dentro di me me lo devo ricordare che questa non è una console portatile ma è semplicemente uno schermo per lo streaming quindi bisogna rimanere bisogna rimanere lucidi la console la console no vedete Portal esce il 15 quindi la prossima settimana fra 5 giorni che è martedì mercoledì sì mercoledì e costerà circa 215 euro comunque più di 200 euro e vi ricordo che in realtà permette semplicemente di fare lo streaming dalla propria PlayStation 5 io ancora non ho capito penso sia così ma ancora non ho capito se si può utilizzare PlayStation Portal anche all'infuori del wifi dove è connessa dove è collegata la console del tipo va bene io la uso a casa per fare lo streaming mentre qualcuno mi sta utilizzando la tv perché vuole vedere la partita della Roma ma se io sto in viaggio posso accendere da remoto la mia PlayStation 5 e giocare quando sto fuori dall'Italia quando sto fuori da casa ovviamente è uno scenario ipotetico perché io da queste mura non esco mai 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 penso sia così altrimenti sarebbe l'ennesimo autogol clamoroso però che dire ci sono anche dei video unboxing e la console è orrenda da vedere non è una console Portal è orrenda da vedere perché è letteralmente un DualSense spaccato in due a cui qui stanno facendo vedere anche le cuffiette a cui hanno messo in mezzo uno schermo però da quello che ho visto quello che dicono tutti quanti quelli che hanno avuto l'opportunità di unboxarle in anticipo in realtà è molto più comoda di quello che sembra il feeling del DualSense rimane intatto anche in questa versione strecciata allungata che comunque mi ricorda troppo la tastiera per Gamecube anche qui Sony ha copiato e niente io sono tentatissimo ragazzi però vabbè no non si può fare non si può fare però rimane il fatto che rimane inguardabile proprio orrenda da vedere io non so non so cosa gli ha preso questa generazione ai designer di Sony non so se hanno se si sono affidati a qualcuno in particolare non sono così esperto però tutto quello che hanno fatto a livello estetico mi fa stracagare mi dispiace l'essere così diretto però così è non ci posso fare nulla poi ultimissima cosa di cui volevo parlarvi prima di passare ad altro visto che ieri abbiamo parlato del remake di Braid e sono felice di vedere che nei commenti alcuni di voi sono affezionatissimi come lo sono stato io a questo gioco per me è proprio uno dei titoli non lo so che ha proprio rivoluzionato il concetto di indie ecco se devo pensare alla scena indie per me parte lì parte con Braid ed è per me è un gioco fantastico ancora oggi innovativo freschissimo bello da vedere un bel partito un bel partito però insomma se non l'avete mai giocato vi consiglio di recuperarlo quando poi nel 2024 uscirà questa versione aggiornata che poi sembra essere stata fatta proprio a modino perché tutte le lavorazioni che sono state fatte sopra in realtà sono state fatte dal creatore originale sto per sbagliare nome sicuramente Jonathan Blow non lo so vabbè mi affido alla mia memoria che non funziona più da 15 anni circa e poi c'è la cosa dell'audio commentary di 15 ore che sembra una cosa completamente fuori di testa quindi è una reedizione che spero facciano anche in formato fisico dubito però penso proprio che me la prenderò anche in digitale ma visto che si parla di effetto nostalgia e di potenziali remake oggi ho letto questa notizia mi ha preso un po' un colpo al cuore perché sono passati esattamente 20 anni dalla pubblicazione di Prince of Persia le sabbie del tempo ora non so se questi 20 anni si riferiscano alla pubblicazione americana o quella europea però quindi con lo semplicemente rilasciato il 10 novembre 2003 più o meno il periodo era quello magari da noi arrivò nel 2004 non lo so però anche fosse questa la data americana e non europea cambia ben poco sono passati tanti tanti anni e ripensandoci è uno di quei titoli che è proprio triste che se ne parli così poco perché per me di quell'era del gaming rimane uno degli esperimenti che più mi ha coinvolto e più mi ha lasciato qualcosa dentro proprio a livello di di emozioni di senso di avventura ed è strano che poi è uno di quei giochi a cui uno non ci pensa mai ma poi ogni volta che qualcuno ne parla lo rivede eccetera eccetera mi si scalda il cuore proprio e tra l'altro io apprezzai anche il reboot quello seguente quello in cell shading però già quello era una cosa diversa la perfetta fusione di action 3D puzzle ambientali esplorazione che fu portata con questo e anche narrativa che fu portata con questo sabbia del tempo per me non l'ha raggiunto nessun altro gioco di quella generazione neanche i due seguiti non lo so in realtà sono un po' triste perché se penso al fatto che il remake allora se penso al fatto che Assassin's Creed ha ammazzato la serie e se ora ci stiamo ciucciando il centocinquantesimo Assassin's Creed che ormai è completamente arrivato alla canna del gas è una serie che non ha più idee da 15 anni e ha cercato di trovare nuove idee tornando indietro ma proponendo poi una cosa completamente anacronistica e se penso che questo è in realtà il motivo per cui non esiste più Prince of Persia un po' di tristezza mi viene però chissà magari se Ubisoft avesse continuato a spremere all'infinito questa serie probabilmente saremmo finiti nelle stesse condizioni ma mi dispiace anche tantissimo che il remake sia ormai un progetto non in alto mare proprio sprofondato negli abissi oceanici ed è un grandissimo peccato ma come gli è venuto in mente di darlo in mano a un team che aveva zero esperienza e infatti poi hanno dovuto ricominciare il progetto da capo manco fosse Metroid Prime 4 quindi chissà quando lo vedremo ciò mette in me una grandissima tristezza ma vi ricordo che il prossimo anno uscirà in realtà una sorta di metroidvania dalle tinte action che sembra un po' l'ennesimo reboot in stile sabbia del tempo uscirà anche per Switch il trailer di presentazione che è avvenuto alle 3 alla Summer Game Fest dello scorso anno mi aveva lasciato proprio nulla dentro mi sembrava una maranzata una coattata di quelle proprio senza senso invece tutti quelli che hanno avuto il piacere di provarlo in anteprima parlano di un titolo che è stato presentato male ma che in realtà è strameritevole e niente io a questo punto non mi ricordo bene neanche come si chiama vediamo questo titolo The Lost Crown la corona perduta per me rimane uno dei titoli anzi per me è uno dei titoli che guardo con più interesse per questo 2024 un po' perché i Metroidvania lo sapete sono un po' la mia la mia passione e un po' perché comunque riprendere quell'estetica riprendere riprendere quella serie riprendere quel discorso là non lo so per me c'è proprio bisogno di tornare a quel tipo di gaming e a quel tipo di di avventura una cosa che mi piaceva tantissimo questo non c'entra in niente è che nel nel gioco originale più andavi avanti più che ne so il principe si si trovava in delle situazioni dove cadeva ruzzolava scorticava tutto e piano piano i suoi vestiti si rovinavano e c'erano delle cutscene dove lui che ne so a un certo punto la la tunica era completamente logora e se la toglieva non lo so mi piaceva proprio il vedere una delle prime volte di una cosa del genere mi piaceva proprio vedere che il progredire della narrativa comportava anche un cambiamento nel modello del personaggio che era sempre più provato da tutte le avventure che stava stava superando tutte le prove che stava superando e secondo me era un modo molto intelligente e innovativo per l'epoca di fare storytelling storytelling tramite la grafica pazzesco proprio ma dietro comunque ci stava mechner che non è proprio l'ultimo dei babbani non so perché ho detto questo termine ma bene andiamo avanti e niente io direi che per quanto riguarda le notizie mi fermerei qua più o meno più che altro una cosa che mi dispiace tanto questo lo ve lo devo dire è quella di non aver trattato secondo me in modo abbastanza approfondito tutta la crisi che c'è intorno all'industria videoludica con i grandi publisher i grandi agglomerati che stanno rivalutando tutte le loro strategie per quanto riguarda il live service questa cosa poi molto molto occidentale del a un certo punto tutta l'industria ha investito solo su una cosa perché ci stavano due giochi che andavano tanto bene troppo bene e tutti quanti hanno deciso di investire sui game as a service sui live service eccetera eccetera e ora che il mercato è saturo tutti questi progetti stanno fallendo tutti gli investimenti si stanno rivelando fallimentari e quindi ci sono dei dietrofront clamorosi in ambito tech queste cose le vediamo sempre più spesso io non so come perché si fanno prendere tutti quanti all'entusiasmo così facilmente io questo non lo capirò mai appena iniziano a girare i soldi la gente impazzisce completamente però un conto è dire la gente impazzisce completamente un conto è dire le big corporation da miliardi e miliardi di dollari fanno degli scivoloni clamorosi e poi comunque a pagarne sono sempre le ultime ruote del carro in questo caso gli studi quelli che producono effettivamente il lavoro commissionato dei publisher e all'interno degli studi sono poi i lavoratori più quelli stagionali e insomma i programmatori e tutti tutti i creativi che ruotano intorno a questa industria ci sono tanti problemi ci sono un botto di licenziamenti ma che attraversano poi tutta quanta l'industria Sony con Bungie Ubisoft Tencent no Tencent no volevo dire Epic Games ha licenziato 800 persone una cosa del genere ci sono tantissimi nomi che stanno stanno attraversando delle vere e proprie ristrutturazioni dell'organico molto spesso chiudendo poi anche interi studi mi dispiace non averlo trattato bene anzi per niente sul canale ma secondo me sono argomenti da una parte che richiedono delle competenze specifiche per essere trattati degnamente dall'altra mi sembra proprio stupido metterli all'interno di un contenitore dove ne potrei parlare tipo per tre secondi e poi parlare del oddio che bello c'è il libricino di Mario RPG mi sembrerebbe anche un po' una mancanza di rispetto non lo so mi sembrerebbe un po' fuori contesto rispetto a quello che faccio e come lo faccio soprattutto anche forse per quello che si aspetta al mio pubblico però l'unica cosa che ci tengo qua a aggiungere a questo discorso è che è stato confermato che Sony che stava sviluppando dodici non uno non due non undici ma dodici live service ha confermato che almeno sei di questi sono stati rimandati a data indefinita perché si sono resi conto che c'è bisogno di molta più cura nel creare questi progetti quindi vabbè insomma si stanno si stanno svegliando tutti quanti adesso da questa allucinazione collettiva che erano i live service e però è un po' un po' poco e un po' tardi too little too late per fare una cosa del genere quindi è un momento di transizione abbastanza disastroso per quanto riguarda l'industria però vabbè che ci volete fare mi dispiace non averle parlato però le cose si muovono anche all'infuori del TG Poro che è l'unico format di YouTube Italia dove si parla ai videogiochi quindi capisco che se non ne parlo io non ne parla nessuno quindi è un po' un problema detto questo passerei un attimo alle novità riguardanti il canale quello che voglio fare io prossimamente e e niente per quanto riguarda la produzione e anche gli appuntamenti poracci perché nella prossima settimana succederanno un botto di cose quindi tenetevi forti per quanto riguarda le produzioni sul canale ti sento tantissimo a chiedermi la recensione di Tears of the Kingdom arriverà ve lo prometto vorrei farla uscire il giorno dei TGA quando si discuterà del GOTY però no voglio prendere questa data come impegno però ve lo dico è uno di quei video che mi preoccupa proprio ed è io sono un procrastinatore nato ed è una di quelle cose che mi spaventa tantissimo affrontare un gioco del genere anche perché io sono uno che vorrebbe dire tutto non vorrebbe questa è proprio una cosa caratteriale non vorrebbe lasciare nulla al non detto ma come fai ad avere un approccio del genere di fronte a un gioco gigantesco come quello soprattutto dove ogni singolo aspetto è fortemente dipendente dall'altro e quindi mi sembra ogni volta che inizi a farmi un po' la scaletta mentale di quello che vorrei dire di quello che vorrei scrivere ok devo dire questo ma come faccio a dire questo senza prima dire quest'altro ma se dico quest'altro allora bisogna dire anche quest'altra cosa ma quest'altra cosa non si può dire se prima ho detto la prima diventa un casino assurdo e vorrei trovare anche un po' una quadra per quanto riguarda il mio modo di recensire in generale di approcciarmi ai videogiochi perché vorrei parlarvi di tante cose però molto spesso mi rendo conto che sono lento eccessivamente prolisso troppo ansioso nel dover per forza mettere le cose in chiaro dovrei lasciare molto di più al non detto per esempio vorrei fare una recensione di Spide stavo pensando di fare questa cosa una recensione di Spiderman 2 a mod di podcast nel senso registrare uno script ma mandare sotto immagini di 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 Spiderman ma in in free roaming risparmiare un po' sul tempo dell'editing mettendo praticamente un video di gameplay sotto però non connesso a quello che sto dicendo in video nel modo di comunque riuscire a farvi avere qualcosa e sì non sarebbe magari un prodotto di qualità ma a un certo punto forse è meglio riuscire a parlare piuttosto che rimanere in silenzio quindi detto questo Spiderman 2 chissà magari riuscirò a farci qualcosa la recensione di Tears of the Kingdom esiste c'è sono sei mesi cinque mesi che me la sto comando dentro voglio dire tante cose da una parte sono anche felice di aver aspettato perché ditemi che senso c'ha parlarne subito o esprimere subito un giudizio su un titolo così indecifrabile per me non ha proprio senso guardate con lo stesso Wonder come è bastata già una settimana di tempo per avere un parere molto più lucido e distaccato su un gioco che rimane un capolavoro ma che comunque ha le sue criticità ed apre a degli scenari interessanti ma se ne avessi parlato mentre ci giocavo o il giorno dopo che l'ho finito probabilmente avrei detto no questo qua è un capolavoro al miglior Mario di sempre no c'è bisogno almeno io ho bisogno di tempo per farsi diventare le emozioni per farsi diventare le impressioni e poi poterle esprimere nel modo più corretto possibile in in video quindi mi dispiace se vi ho fatto aspettare così tanto però capite che non è solo un fatto del oddio verrà un video gigantesco oddio come faccio ma è proprio un fatto di ansia e di aver paura di non essere all'altezza di questo compito vi sembrava un'esagerazione vi sembrava una cosa stupidissima però per me questo qua io vivo tutta questa mia avventura su youtube come se fosse un lavoro e ci tengo molto che quello che produco quello su cui metto la firma quello su cui metto la voce la faccia eccetera eccetera sia in linea con con quello che mi rappresenta e con non voglio parlare di standard qualitativo ma sia appunto uno specchio del mio intendere i videogiochi ed è una cosa molto difficile soprattutto un processo in continuo di venire non penso di averlo mai raggiunto sul canale nelle ultime recensioni sono molto più felice di quello che sto dicendo di come lo sto dicendo però c'è ancora tanta strada da fare e non vorrei che un lavoro affrettato o anche un lavoro su cui poi ho riflettuto troppo bruci questa questa mia volontà di dire le cose non assolutamente in modo oggettivo ma anzi estremamente soggettivo ma che abbia un valore spero di riuscire a mettere tanto di me stesso di non fare un compitino così tanto per dire la grafica è bella il level design è incredibile non voglio essere schematico voglio essere professionale ma appassionale allo stesso tempo insomma è un casino è un casino e forse il problema è proprio che io ragiono troppo su queste cose e molto spesso dovrei invece semplicemente iniziare a farle e poi forse verrebbero da sé comunque la recensione di Gears of the Kingdom che spero di non aver chiamato Breath of the Wild 300.000 volte visto che mi confondo in continuazione con i nomi arriverà quindi direi per gli inizi di dicembre e mentre questa settimana vorrei riuscire a fare appunto un video sul sul futuro di Nintendo su su come il film di Mario ha influenzato le vendite dei giochi di Mario e su come un eventuale film di Zelda ecco parliamo di questo un eventuale film di Zelda come potrebbe influenzare lo sviluppo dei giochi di Zelda questo era un parallelismo che mi era venuto in mente non sono riuscito a dirvi prima però pensateci il film di Mario è diventato il portale di accesso a una platea gigantesca e per far sì che questa platea si avvicinasse al personaggio pur non avendo familiarità con i videogiochi hanno dovuto far sì che Mario parlasse quindi l'hanno trasformato in un personaggio parlante non interpretato la sua voce storica anche questo molto significativo e per me magari voi non sarete d'accordo però per me Wonder è il primo titolo veramente parlato della storia di Super Mario lasciate perdere il fatto che non ci sia più la voce di prima ma ce ne sia un'altra però è proprio un titolo cartunesco è proprio un titolo dove la voce e quel tipo di espressività del film un po' slapstick un po' tongue and shake quella comicità un po' frizzantina non so come definirla si trasla si trasla sul gioco e c'è un un modo molto più proprio da cartone animato che secondo me è stato scelto anche in funzione del film ecco allora parliamo del film di Zelda Link parlerà probabilmente sì che fanno un film dove il protagonista non parla un film che comunque ha l'obiettivo di arrivare a un pubblico gigantesco e mi tiri fuori un protagonista muto non lo so non penso che Nintendo voglia tirar fuori un film d'autore quindi Link parlerà ma dopo che la gente conoscerà questo personaggio conoscerà questa serie tramite il film e dopo verrà fatto probabilmente un titolo pensato proprio per accompagnare nel mondo dei videogiochi tutto il nuovo pubblico a quel punto che uscirà fuori uscirà fuori uno Zelda molto più narrativo uno Zelda dove il protagonista parla eh queste secondo me sono quesiti molto interessanti e potrebbero aprire degli scenari altrettanto interessanti quindi mi piacerebbe fare un video su questo sul futuro Nintendo su come le IP si stanno espandendo al di fuori del mondo dei videogiochi mi piacerebbe fare tantissimo questo lo faccio sicuro anche per sfruttare un po' il tema caldo di Switch 2 un video in cui discuteremo sulla nomenclatura di Switch 2 sul perché potrebbe chiamarsi Super Nintendo Switch ma allo stesso tempo perché poi è una cosa che mi scrivete in tanti nei commenti se effettivamente Super Nintendo Switch sarebbe un nome rischioso o meno dietro ci sta l'ombra che incombe del fallimento Wii U e non aver saputo distinguere agli occhi dei consumatori due prodotti che erano due generazioni diverse di console la gente pensava che Wii U fosse un accessorio il pad per Wii chi se ne è poi reso conto che era uscito questa cosa perché insomma a livello comunicativo è stato un disastro ma non è che chiamando la prossima console Super Nintendo Switch si rischia lo stesso effetto di spiazzamento spiazzamento spaisazione come si dice non lo so nel pubblico potrebbe essere ma questo qua secondo me ci esce fuori un video molto figo che rende bene seguiranno ovviamente i classici TG Poro c'è la mezza idea di fare qualche live su UFU però non lo so non lo so le live anche questa cosa l'avrei potuta fare in live però io sono un vecchio stile mi sento un po' un dinosauro ragazzi mi trovo mi sento molto più concentrato mi trovo molto più a mio agio nel non dover pensare alla chat dal vivo anche se c'è solo una persona quindi per ora va così però chissà in futuro potrebbero esserci occasioni diverse e poi importantissimo parliamo un attimo degli appuntamenti di novembre allora qui la cosa si divide in due in due tranche in realtà una pressa dall'altra perché domenica della settimana prossima ovvero il 19 novembre sarà il mio compleanno che festeggerò giocando a Super Mario RPG in uscita del 17 e per il mio compleanno ho pensato di fare due cose diverse la prima sarà quella di correre una 21 chilometri la mattina per chi non lo sapesse io mi alleno parecchio per quanto riguarda la corsa corro le maratone quindi 42 chilometri e niente ho pensato che un bel modo di festeggiare i miei anni fosse quello di correre 21 chilometri la mattina al freddo quindi ci sarà una gara qua a Roma e la correrò poi nel pomeriggio invece sarò anzi pomeriggio dall'ora di pranzo fino alle 6 sarò da Toissimi che è una fiera dedicata al giocattolo vintage e al retro gaming siccome qualche settimana fa un mesetto fa sono stato al game vintage market senza avvertire nessuno e comunque ci sono stati parecchi di voi che mi sono venuti a salutare insomma sono stato riconosciuto parecchio ho pensato di dare appuntamento a questa fiera che è anche più grossa e più conosciuta del game vintage market e quindi sarà insomma un po' un'occasione per fare un raduno poraccio romano per chi è in zona mi troverete lì poi comunque ve lo ricorderò su instagram questa cosa mentre per chi non è di roma la settimana dopo ancora ci sarà la milan games week e io sarò lì sia venerdì sabato che domenica ospitato dal buon nanni non quello famoso ma il nanni original quello che segue il canale dal 2017 credo forse 18 comunque uno dei primi fan con cui abbiamo sviluppato proprio un rapporto di grandissima amicizia e niente ci troverete ci troverete in giro per la per la milan games week anche là poi vi ricorderò la mia presenza vi segnalerò di volta in volta dove mi troverete a girare insomma anche quella sarà un'occasione per per incontrarci tutti quanti quindi questo qua per quanto riguarda gli appuntamenti comunque seguitemi su instagram perché la vi pubblicherò le locandine vi ricorderò le cose eccetera eccetera insomma sarà un novembre bello bello pieno di viaggi bello pieno di cose sarà anche il mio compleanno quindi non lo so a me è una cosa che mi rende sempre super felice va bene detto questo l'ultima cosa che volevo dirvi e per chiudere questa prima puntata anzi questa puntata zero del tg poro è che in questo del tg poro la forza e l'abitudine e l'età che avanza del poro cast è dirvi che sto giocando dall'unwick 2 e lo sto adorando ci sono tutte le potenzialità per farlo diventare il mio goti dell'anno vi dico tanto questo però la cosa più assurda di tutte ragazzi innanzitutto l'hanno reso horror è proprio un horror che ti fa stare tesissimo dall'inizio alla fine e siccome lo sto giocando quando ho tempo quindi la sera io praticamente poi la notte non dormo perché finisco di giocare all'una e le due e sto elettrizzato e sto proprio schizzatissimo e quindi questo è un po' un problema diciamo ma tolto questo vi racconto questo aneddoto l'altra sera mi sono detto sono le unici che bello ho finito ho finito ho appena finito di cenare oggi ho finito presto evviva mi faccio un'oretta di Alan Wake 2 e poi me ne vado a dormire così domani mattina poi mi posso allenare dormo abbastanza sto sto bello fresco affronto la giornata con con energia quindi alle undici metto a giocare ero felicissimo procedeva tutto bene fino a quando non mi trovo in un bug pazzesco e non era un bug stupido di quelli non lo so alla scarlatta e violetto con i modelli poligonali che si sminchiano no era proprio un game breaking bug ovvero uno di quei bug che impediscono la progressione in gioco non so se vi manderò delle immagini a schermo però immaginatevi che a un certo punto del gioco bisogna avviare un ottovolante una giostra per far sì che i sedili si spostino e una volta fermata la giostra venga liberato l'accesso a un a un passaggio che poi permette di prendere un un fusibile insomma un qualcosa di elettronico però insomma bisogna spostare sta cazzo di giostra se non fosse che in questo bug il a causa di questo bug la la carrozza che dovrebbe spostarsi rimane ferma rimane immobile la giostra gira ma questa carrozza è ferma e le altre le altre carrozze ci clippano ci passano attraverso però questa rimane fisicamente un ostacolo che ti impedisce di proseguire oltre porca miseria le ho iniziato a provare tutte e carica salva salva che la giostra sta andando avanti ricarica no salva che la giostra è ferma salva che la giostra è in posizione salva che la giostra è in quest'altra posizione niente a un certo punto ho le ho provate così tante cambia zona in gioco torna indietro carica un salvataggio di due ore prima niente ma le ho provate così tante che ho completamente spaccato la logica di gioco e il motore fisico e tutte le giostre tutte le carrozze erano disancorate dalla dai bracci meccanici della giostra e tutte quante compenetravano il terreno così quindi quando avviavo la giostra la giostra si girava a vuoto mi volevo mettere a piangere e scopro in girando su reddit che in realtà è un bug che si stanno beccando tutti quanti e quindi la gente impazzisce c'è chi riesce a risolvere ma in realtà dicono io ho fatto così ma allora io ci provo ma no non funziona niente ragazzi ci ho perso un'ora e mezza porco di quel porco stavo impazzendo mi veniva da piangere finché non trovo un mito che si è inventato questo metodo dove praticamente spintarella dopo spintarella di una carriola che stava lì vicino neanche troppo vicino praticamente ha fatto in modo di portare questa carriola vicino alla carrozza che rimaneva ferma per poi sfruttando le compenetrazioni sbagliate del motore fisico di gioco che comunque è un gioco molto molto statico non stiamo parlando di Tears of the Kingdom praticamente saliva sopra questa carriola che però gli permetteva di fluttuare tanto abbastanza per scavalcare poi anche questa questa carrozza e io ho perso un'altra mezz'ora nel tentativo di replicare questo questo glitch che permetteva di superare un bug alla fine ce l'ho fatta era diventata una cosa come Luna e tra l'altro questo qua era un momento prima di un boss fighissimo fighissimo proprio quindi che fai mi sono fatto un'altra ora per sconfiggere questo boss ero completamente cotto ero completamente distrutto in più elettrizzato perché c'è stata pure la boss fight bella bella coinvolgente e niente io ho pensato ma ma che cazzo di sfiga ho avuto anche perché bellissimo il giorno dopo avvio il gioco e mi scarica una patch di aggiornamento che di sicuro è stata fatta per correggere questo bug e là mi volevo mettere veramente a piangere tra l'altro non lo sto neanche giocando su pc lo sto giocando su playstation 5 e l'ho preso là pensando vabbè ma vuoi mettere la comodità che non devi pensare alle configurazioni del pc alla scheda grafica come ottimizzare la grafica eccetera eccetera niente proprio da certe cose ormai purtroppo non si sfugge me la sono presa in pieno e vabbè voglio far finta che questa cosa non sia mai successa e continuare a pensare che Alan Wake 2 sia il mio potenziale goti a parte gli scherzi peccato che esiste solo in digitale dovreste giocarlo tutti quanti perché è un titolo fuori di testa pazzesco proprio incredibile però non voglio stare adesso ore e ore a parlare di Alan Wake 2 ma più che altro chiuderei qua la prima puntata del del porocast spero di avervi intrattenuto questa oretta spero che non lo so che questo format abbia del potenziale non dico vi piaccia perché di sicuro ci sono tantissime cose da correggere ci sono tantissime cose migliorabili però spero che come episodio zero vi abbia fatto vedere un grande potenziale vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video vi auguro un buon weekend e niente nerdate duro nerdate duro soprattutto continuate a guardare i miei video e a mettere like e magari se volete c'è pure il porion l'abbonamento su youtube no? va bene poracci grazie mille a tutti quanti ci vediamo presto buon weekend e ricordatevi toissimi il 19 e poi la settimana dopo la milan games week ciao a tutti io sono il poro poro michele cast ciao questa magari una studio un po' meglio ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul porion il patreon dei poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa un po' meglio